è l'ultima occasione che abbiamo di vedere questo bel pianeta potente freezer presto zerman si voglio che si apre il portello superiore ma i nostri soldati sono già in azione come desidera a 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